un saluto a tutti i profeti di questo canale sapete che sono il massimo esperto di serie tv di serie televisive ma in generale di audiovisivo ascoltiamo spesso fan in super hype per le per le cose i visualizzatori di trailer i visualizzatori di trailer no non si fa così l'analisi delle opere audiovisive che oggi sono le serie tv il cinema e tutto quant'altro io vi voglio parlare della serie di cowboy bebop live action uscita su netflix in 10 puntate ho potuto vedere le prime 5 fino ad adesso ma ve ne parlo ora e non alla fine perché è inutile che io vi faccia il commento di cowboy bebop live action rispetto al manga siete in grado di farlo da soli ognuno avrà il suo parere gli attori sono in caratter non lo sono sono dei buoni attori il mood è giusto il mood è sbagliato io trovo che sia tutto piuttosto azzeccato e che abbia un'atmosfera veramente particolare ma io non volevo parlare di cowboy bebop per questo ma perché cowboy bebop è un'anteprima secondo me di una serie molto più attesa non dico nella per forza nella qualità del prodotto o per la qualità del prodotto originale ma semplicemente per la mole di gente che lo sta attendendo e sto parlando di one piece ultimamente abbiamo visto che il troupe si è radunata per l'inizio delle riprese a copacabana non ricordo dove comunque dove ci sono gli studios che sono specializzati in effetti speciali sul mare che hanno fatto già altre serie marittime la troupe si è radunata su instagram è stata pubblicata una foto del attore che farà sanji che che non ha taggato in nessun suo contenuto l'attore che fa zoro ma tagga tutti gli altri era una cena lui aveva cucinato sotto risponde l'attore che farà zoro dicendo mi sono perso questi sono quei dettagli che ti fanno ben capire che sono perfettamente dentro l'animo di one piece però ci tengo a dire una cosa prima di questo passaggio ho guardato alcuni articoli sotto alcuni articoli nei commenti che parlano di cowboy bebop in live action e sotto partono i pareri è super simile all'anime quindi è bellissimo è totalmente diverso dall'anime quindi è bruttissimo ecco iniziamo a dire una cosa importante che né nel caso di cowboy bebop ma nel caso di nessun contenuto che attinge ad un'opera già esistente si deve fare questa valutazione cowboy bebop secondo me se voi ve lo guardate predispone molto bene perché riesce a rispettare tantissimo lo spirito del anime io ho visto l'anime non ho idea se ci sia anche il manga l'anime mi è piaciuto e mi sta piacendo anche il live action in questo caso è vero che il rispetto quasi totale dell'opera originale è stata una buona intuizione di chi l'ha messo in opera questo cantiere di cowboy bebop live action perché in effetti crea un'atmosfera molto unica nel panorama delle serie televisive perché noi diciamo live action perché sappiamo che c'è l'anime altrimenti io direi solo cowboy bebop è ovvio che sto parlando di quello crea un'atmosfera unica perché il materiale originale era assolutamente adattabile nel modo più fedele possibile perché comunque il mondo di cowboy bebop al netto che si svolge nello spazio in un futuro molto diverso dal nostro comunque ha ancora tanta aderenza nella realtà è una fantascienza vintage potremmo dire dove ci sono locali e quartieri malfamati pianeti in decadenza tutto accompagnato alla musica jazz dove l'elemento fantastico c'è ma i personaggi che noi seguiamo sono comunque realistici al netto di quell'ironia e quei caratteri da fumetto che sono stati secondo me usati col contagocce ma cowboy bebop non era esagerato a quel livello però l'attenzione con cui è stata prodotta ci dovrebbe far riflettere su e questo è in grado di fare netflix con un materiale della materiale di cultura pop della cultura giapponese quando lo traspone live action sono sempre più tranquillo sono sempre più come possiamo dire ben predisposto nel guardare senza alcun pregiudizio se non addirittura positivo quello che sarà il live action di one piece guardiamo attentamente alcune cosine il personaggio di spike che è il personaggio che nel anime è il protagonista e anche nella serie ovviamente il protagonista l'aspetto se noi andiamo a guardare quel spike dell'anime con questo spike alla fine ce lo ricorda pur se l'aspetto non è perfettamente centrato come sono stati fatti i capelli l'abito che indossa e anche i suoi movimenti alla fine hanno reso benissimo il personaggio anche se di volto non ci assomiglia tantissimo quindi inizierei a stare tranquilli noi che stiamo aspettando la versione di one piece su Taz Skyler colui il personaggio che farà Sanji che è sembrato un po' a tutti essere più simile a Eminem e quindi a Ener piuttosto che a Sanji vedrete che con un'opera di make up poi si sono sbizzarriti i creativi del web a farcelo notare vedrete che con il giusto make up sarà assolutamente credibile anche se adesso per il momento questo non lo riscontriamo però c'è una cosa ecco che c'è una differenza grossa tra one piece e cowboy bebop i combattimenti di cowboy bebop si basano su tecniche soprattutto marziali esistenti e quindi vengono tranquillamente riprodotte forse un po' velocizzate io ho visto l'allenamento che sta facendo l'attore di Sanji sui calci e ovviamente l'incipit è assolutamente l'inizio e non trovo quei movimenti convincenti perché io credo che una parte importante del personaggio non sia per forza avere il ricciolo o gli occhi a cuoricino ma sia la parte di lotta di combattimento del personaggio che è veramente particolare sarà conservato il principio per il quale lui non usa le mani per cucinare quindi usa i calci se usa i calci non vorrei che diventasse una serie live action come quella di Iron Fist per Netflix dove l'attore principale che faceva Danny non mi ricordo chi era una pippa immonda ma questo derivava anche dal fatto che attenzione le coreografie venivano pensate sul set mentre giravano e non c'era stata una preparazione in genere quando ci sono delle scene di lotta c'è tutta una preproduzione di una serie dove gli attori passano tantissimo tempo nell'attesa che vengono allestiti set e che tocchi a loro girare le scene dove loro si preparano con gli stunt e con gli allenatori a fare le scene in azione quindi non partiamo col pregiudizio negativo solo perché abbiamo visto Tad Skyler fare un allenamento casalingo dove in effetti sono d'accordo i calci e i calcetti non erano convincenti un po' molli e poco acrobatici però può essere che sia anche solo un allenamento che diserva per delle scene di raccordo poi attraverso il trucco il parrucco e i vestiti uno stuntman che combatte con la telecamera che non gli inquadra prettamente il viso o leggermente lontana è facilissimo le scene insomma quelle più top le possono fare tranquillamente gli stuntman con dei banalissimi trucchi di regia vecchi quanto il cucco da 50 mila anni quindi ecco ho approfittato per dire la mia su Cavalli Bebop che ho apprezzato veramente tanto quell'atmosfera decadente sempre condita con la musica jazz che fa da sottofondo a quelle azioni loro sempre in cerca di denaro nelle trame verticali con quella orizzontale che è sicuramente interessante ecco se proprio posso dire la mia l'avversario di Spike quello che crea la trama orizzontale non mi fa impazzire Fai e Valentine anche in questo caso secondo me è l'unico personaggio non tanto aderente all'anime è più voluttuoso potremmo dire così ma meno provocante credo che sia anche un'esigenza di rispetto di alcuni canoni femminili in questo periodo storico ma questo è tutto un altro discorso che non ci interessa e niente io vi aspetto comunque per parlare dalla Z dell'anime della serie live action di One Piece al Pescara Comics sarò domenica alle 11 e mezza del mattino a parlarne e il sabato pomeriggio a Caverna di Platone a parlare d'altro vi aspetto ciao a tutti grazie a tutti